Subito da Don Antonio Mazzi, è in linea. Perché l'hai detto così? Eccolo. No, perché non sapevo se era in linea. C'è, c'è. Buongiorno Don. Ho detto piano che non si sente. Sarebbe bello accorciare l'infanzia e prolungare l'innocenza. Oh, la ripetiamo, sarebbe bello accorciare. Accorciare l'infanzia ma prolungare molto di più l'innocenza. Bella, grazie Don, grazie per la frase del giorno. A domani.